Sì, voglio vedere queste maglie a zero, diretti! E le sue voce, anche per i culi, pareva bella paura, questo è la famiglia di sé qui! E le bambavano, più giù e ci sono scattato! Ehi! Ehi! Precozando la miaення e la miaarencia Ehi! 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 Dori mille anni, quante bombe sono esplose nel cuore, ricordi a nonno e madre, tra i ceielli sono ancora il più prezioso, e non mi ascolto mai, tu non mi senti, ando sulla nave, perché sei una ragione che si è al posto che io non c'è, eccola qua, ecco non si, posto con me, si, non è la torre di questa voce che io non c'è, eccola qua, ecco non si, posto con me. Grazie a tutti.